Anticipazione imposta al sole. Giovedì 24 settembre 2020. A seguito di un teso confronto con Lara, Marina si sente molto combattuta tra il desiderio di portare avanti l'importante commessa del magnate russo e i timori fondati per il rischio insito nell'impresa. Leonardo non vuole arrendersi con Serena. La ragazza intanto intende verificare se una sua sensazione sia giusta o sbagliata e decide di agire. Dopo la delusione ricevuta da Max Peruso, Patrizio fatica veramente a riprendersi. Il giovane chef riuscirà a mettere da parte l'orgoglio una volta per tutte e a capire che il successo è quasi sempre un gioco di squadra? Grazie a tutti.